Signore e signori, Sensi in Movimento presenta Amici sbevazzoni, eccoci al primo test sui vini dei supermercati, non più su quelli dei discount, come finora fatto. Partiamo da Conad, un gruppo con oltre 3.000 punti vendita in tutta Italia, probabilmente catena GDO più grande, tenendo conto che io scelgo e sceglierò sempre comunque i supermercati che abbiano un'ampia diffusione su tutto il territorio nazionale, perché voi amici sbevazzoni che mi seguite così numerosi siete davvero sparsi su tutto il territorio nazionale, oltre che all'estero peraltro. Alla Conad o al Conad che dir si voglia, la gamma dei vini in vendita è davvero ampia, molto ampia, molto più ampia rispetto ai discount, quindi ho dovuto fare delle scelte. Mi sono dato un obiettivo, verificare se alzando il prezzo medio si riescono ad acquistare vini già di buona qualità in un supermercato. E sono partito quindi dai vini bianchi un'intera scaffalata. Ho scelto lo spazio espositivo, il format più grande di questa catena GDO che si chiama Spazio Conad. Ce ne sono diversi in Italia e superano i 4.800 metri quadri, quasi praticamente un ipermonte. Vi presento quindi i miei criteri di scelta. Ho selezionato 10 vini bianchi da 10 regioni diverse, evitando di testare i nomi delle grosse e famose cantine, privilegiando quindi realtà diverse alternative. Poi ho voluto testare due annate diverse, la 2023 naturalmente, 4 bottiglie, e la precedente cioè la 2022 con 6 bottiglie. Sappiamo bene, amici sbevazzoni, che i vini bianchi, i vini rosati e i vini spumati vanno bevuti in fretta entro l'anno, diciamo così, anno e mezzo dalla vendemmia. E con questo intendo dire ad esempio che oggi, giugno 24, le annate della vendemmia 23 sono già pronte, quindi non troppo giovani, ma in realtà gli scaffali, abbiamo visto, sono ancora ben pieni di 2022 e anche di 21 e di 20. Attenzione! E quindi vediamo alla prova pratica cosa conviene acquistare. Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale naturalmente, per voi gesto semplicissimo e gratuito per me, facilissimo. La maggior parte di voi, oltre il 60%, guarda i miei video ma non si iscrive, fatelo per favore. E vi do sempre un incentivo, chi si iscrive e me lo indica via mail all'indirizzo info-sensimmovimento.it riceverà gratuitamente il mio pdf, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Oltre 190 vocaboli ben spiegati per utilizzare al meglio le parole del mondo del vino. Altre 18 bottiglie recuperate di Solaria Ionica 1959, il vino più emozionante in assoluto che io abbia mai degustato nella mia carriera. Per acquistarle scrivetemi a info-sensimmovimento.it E allora iniziamo con il testare i primi quattro vini 2023, in ordine di gradazione alcolica crescente. Come sempre si deve fare. E dunque la prima, Passerina Terre di Chieti IGT, nata 2023, 12 gradi e mezzo di alcol, prodotta da Tenute Masso Antico SPA, azienda di Ora in provincia di Bolzano. L'etichetta sottolinea che è un vino prodotto da agricoltura e vinificazione biologica. L'etichetta aggiunge ancora che questo vino è stato premiato con 96 punti dall'annuario dei migliori vini d'Italia di Luca Maroni. E dunque, alla vista, versandolo al calice, abbiamo colore, limpidezza, trasparenza, luminosità, tonalità direi corrette per la Passerina, questo interessantissimo vitigno autottono abruzzese. All'olfatto abbiamo un vino anche qui corretto, pulito, una buona intensità, non è particolarmente complesso, un po', come dico spesso, monocorde. Lo assaggiamo anche al gusto, è abbastanza equilibrato, una buona acidità, un po' evidente, devo dire, ma non prevalente e non così fastidiosa, un buon corpo, una buona persistenza, anche in bocca come al naso non esprime una grande varietà aromatica e di gusti soprattutto, cioè di fatto è poco complesso, si sviluppa poco, si evolve poco. Lo troviamo ad un prezzo di 4,99€ e per questo motivo il mio rapporto qualità-prezzo è di 8 su 10. Il secondo vino è un Traminer aromatico Friuli Doc Aquileia, superiore, prodotto da Tenuta K Vescovo, in etichetta specificano imbottigliato all'origine da TBC SARL a Cervignano, appunto in Friuli. 12,5 gradi di alcol, versato nel calice lo vediamo corretto anche qui dal punto di vista della vista, quindi limpidezza, tonalità, intensità, ci siamo. Lo annusiamo, è poco intenso, molto leggerino al naso e monocorde anche qui, quindi settori di frutta e di fiori abbastanza indistinti e poco intensi. In bocca ha maggiore personalità, è un po' più ricco, è un po' più morbido, ha anche un buon corpo, va detto, un'acidità che dà un filino fastidio, ma essendo comunque un 2023 nei prossimi mesi si potrebbe attenuare, non è molto persistente nel finale. Ha un prezzo di 5,59€ e il mio rapporto qualità-prezzo è di 7 su 10. Colli Berici Bianco Superiore, DOC, naturalmente 2023, 13 gradi di alcol, prodotto da Cadefra, SPA, Montorso Vicentino. Per questa denominazione c'è il minimo di 50% di Garganega, ma non sono specificati i vitigni utilizzati. Anche per questo vino, dal punto di vista visivo, ci siamo, corretto, limpido, trasparente, luminoso, una buona intensità cromatica, all'olfatto corretto, anche qui monoaromatico direi, con un pochino di alcol o forse di solforosa, non riesco a distinguere bene, un po' pungente al naso. Lo assaggiamo al gusto, l'acidità è abbastanza spiccata, aggressiva, di corpo ce n'è veramente poco, poca persistenza finale, anche poca intensità, insomma, alla fine un equilibrio abbastanza precario. Il vino costa 5,90€ e il mio rapporto qualità-prezzo è 5 su 10. Il quarto vino è una Vernaccia di San Gimignano DOCG, siamo in Toscana naturalmente, 100% Vernaccia, prodotto dalla Fratelli Bellini a Rufina in provincia di Firenze. Anche qui, dal punto di vista visivo, niente da dire. Anche qui, dal punto di vista olfattivo, niente da dire, corretto, non ci sono sgradevolezze, ma il vino è monocorde, un aroma unico, si assomigliano un po' tutti. Lo assaggiamo, al gusto è abbastanza acido, non c'è molto equilibrio, si sente anche un po' l'alcol in eccesso, di corpo ce n'è poco, la persistenza si sente abbastanza alla fine il vino dopo la deglutizione, ma purtroppo si sente perché ci sono delle note amarognole che poi alla fine sono abbastanza fastidiose. Il prezzo a scaffale è di 5,89€ e il mio rapporto qualità-prezzo è 5 su 10. Ed ecco il primo vino annata 2022 del nostro test, è una DOC molto interessante, Est 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 di Montefiascone DOC, siamo nel Lazio naturalmente, una DOC con una storia molto interessante che magari un giorno vi racconterò, prodotto da KVCSRL a Gaeta in provincia di Latina. 12 gradi di alcol, dal punto di vista visivo notiamo subito un colore molto carico, molto intenso, un giallo dorato, presumibilmente dovuto all'ossidazione del vino, visto che è una vendemia 22, quindi è da più di un anno in bottiglia. Al naso però, contrariamente, è abbastanza scarico, abbastanza leggerino, è equilibrato, direi corretto, però effettivamente si fa molta fatica a percepirne gli aromi. Al contrario, al gusto, in bocca, è abbastanza intenso, si sentono delle note un po' evolute, proprio tipiche dell'ossidazione, ancora probabilmente da rintracciare nell'annata 2022, quindi non la più recente 23, e comunque poi poca intensità, poco corpo, poca struttura, poca persistenza. In bocca un po' deludente, francamente. Il prezzo a scaffale è di 5,50 euro, e il mio voto qualità-prezzo è 6,5 su 10. Ed ecco il prossimo vino, Vendemmia 2022, etichetta molto accattivante dal punto di vista grafico, anche la tipologia del vino è piuttosto curiosa, che mi ha appunto attirato. Stiamo parlando di un vino bianco Basilicata IGT, a base Chardonnay 100%, il nome di fantasia è Tiresia, e viene prodotto dall'azienda vinicola Gioia al Negro, a Lago Negro, in provincia di Potenza. 12,5 gradi di alcol. Il colore ci colpisce subito, perché anche qui molto intenso, giallo dorato carico, probabilmente sempre per il motivo precedente, annata 2022, vino un po' ossidato. All'olfatto lo sentiamo piuttosto intenso, anche abbastanza interessante, però le note sono molto evolute, c'è molta ossidazione. Al gusto c'è poca acidità, darebbe proprio l'idea di non aver tenuto nel tempo, questo anno, anno e mezzo in bottiglia, lo ha fiaccato. Si sentono note di frutta stramatura, infatti non sostenuta dal corpo, vino abbastanza magro, poco intenso e poco persistente. Il prezzo scaffale è di 4,70 euro, e il mio voto qualità prezzo è di 5 su 10. Ed eccoci al prossimo vino, molto interessante come tipologia dalla Romagna. Stiamo parlando di una varietà denominata Pagadebit, e infatti questo è un Romagna Doc Pagadebit, prodotto dall'azienda Fattoria Paradiso SNC, proprio a Bertinoro. Lo versiamo nel calice, il colore è corretto, una bella lucentezza, abbastanza intenso, ma non eccessivamente dorato. Al naso, anche qui, non ci sono difetti, non ci sono note ossidative, anzi, al contrario, forse molto tenue, forse un po' troppo tenue, poco intenso dal punto di vista olfattivo. Lo assaggiamo e abbiamo una sensazione citrica di succo di limone molto evidente, non supportata dal corpo, che è piuttosto scarso, e anche dall'intensità gustativa. Quindi in complesso è abbastanza disequilibrato, un po' sgraziato. Il suo prezzo è di 5,90 euro, e il mio rapporto qualità prezzo è di 5 su 10. Eccoci al terz'ultimo vino, un greco di tuffo di OCG, naturalmente siamo in Campania, prodotto da Ircol SRL, a Montemiletto, provincia di Avellino. 12 gradi e mezzo di alcol. Lo versiamo nel calice, lo vediamo subito di un giallo dorato, molto intenso. Al naso non ha difetti, è corretto, è pulito, è netto, anche qui piuttosto uguale a se stesso, è uguale ai precedenti. Note di frutta e note floreali, gradevoli ma non identificabili. Bucchè molto molto ridotto, dal punto di vista della complessità. Lo assaggiamo, stessa sensazione citrica, molto evidente del precedente, e nonostante questo l'acidità è abbastanza scarsa, quindi diventa un po' asciutto in bocca, e tutto ciò non è sostenuto da corpo, da intensità, quindi da struttura e nemmeno da persistenza. Piuttosto scarichino e magro in bocca. Direi complessivamente davvero poco equilibrio. Prezzo scaffale 5,90€, il mio voto rapporto qualità prezzo 5 su 10. Ed eccoci arrivati al penultimo vino, con una bottiglia molto importante dal punto di vista packaging, sia nella forma sia nel peso. Si tratta di un Languedoc, realizzato con un taglio di Chardonnay e di Arneis. Naturalmente la vendemia è 2022. L'azienda che lo produce è Casale del Barone, ad ora in provincia di Bolzano. 13 gradi di alco. Lo versiamo nel calice, un bel colore, una bella trasparenza, una bella luminosità, tutto corretto. Anche al naso ha una buona finezza, un buon equilibrio, note un pochino evolute, ricordiamo che è sempre un 22, ma comunque complessivamente gradevoli. Al gusto lo assaggiamo quindi, una buona intensità, una buona struttura, un po' sgraziato, un po' scorbutico, un po' acidulo, manca di morbidezza, manca di rotondità, che comunque ci aspetteremo da uno Chardonnay. Manca un po' di eleganza, un po' di finezza. Nel complesso discreto, il prezzo è 5,49 euro, e il mio rapporto qualità-prezzo è 6,5 su 10. E veniamo quindi all'ultimo vino, siamo in Sardegna, vermentino di Gallura di OCG, in teoria la zona della Gallura, nord della Sardegna, dove si esprimono i migliori vermentino, grazie a terreni davvero straordinari, ricchi di granito. L'azienda che lo produce si chiama CRCSA, 13 gradi di alcol. Lo versiamo nel calice, alla vista abbiamo un colore molto intenso, carico, un giallo dorato, anche qui evidentemente frutto dell'ossidazione dovuta all'annata, non recentissima, al naso poco intenso, gli aromi vanno proprio ricercati un po' con l'anternino, è una leggera pungenza dovuta all'alcol. Dal punto di vista gustativo abbiamo senz'altro corpo, abbiamo senz'altro appunto una buona struttura, anche una buona intensità, una nota citrica piuttosto elevata, che comunque appunto ben compensata dalla struttura del vino, una persistenza abbastanza elevata, quindi un vino abbastanza lungo, con una nota amarognola finale molto persistente e non particolarmente gradevole. Il vino ha un prezzo di 5,90€ a scaffale e il mio rapporto qualità-prezzo è quindi di 6,5 su 10. Ed ecco che quindi qui di seguito stilo la classifica dei 10 vini assaggiati. Voglio ricordare una cosa sempre molto importante. Il voto qualità-prezzo che io do non rappresenta affatto la qualità intrinseca del vino a sé stante. Ci dà invece, questo rapporto, un'indicazione se il suo mix tra la qualità e il prezzo è appunto conveniente oppure no. Ad esempio, il primo vino classificato ha un rapporto qualità-prezzo di 8 su 10. Ciò vuol dire che per quello che costa, cioè 4,99€, che è davvero poco, ha una qualità più che soddisfacente, ma in rapporto al prezzo. Cioè è un ottimo acquisto per un consumatore che vuole spendere poco, ma avere qualcosa di decente nel calice senza troppe pretese. Questo è il significato di questo rapporto. Come valutazione complessiva del test, io direi che questa fascia prezzo, quindi intorno ai 6€, è ancora troppo bassa nella media per trovare dei vini di qualità, cioè dei vini equilibrati, dei vini con una buona intensità, con una buona complessità gustativa-olfattiva. E poi ancora, abbiamo sempre detto che oggi, giugno 24, la soglia per bere bene, io faccio sempre riferimento al prezzo supermercato-enoteca e non ristorante, che è un'altra cosa, la soglia, dicevo, è mediamente superiore agli 8€ per i vini quotidiani, perché chiaramente se parliamo di vini da invecchiamento, vini particolari come il Barò e il Brunello, ovviamente la soglia si alza molto, ma molto di più. E questo test di fatto conferma questa soglia. Inoltre, riaffermiamo il fatto che nella media, se non conosciamo né il vino né il produttore, oggi, sempre giugno 24, preferisco acquistare un bianco o un rosato dell'annata 23 e non le precedenti. Ci sono eccellenti eccezioni, ma vanno considerate in quanto tali. Quindi, siccome il motto è sempre bere poco, ma bere bene, alziamo l'asticella e mettiamo la mano nel portafoglio. Tac! Con le gambe, con il culo, coi miei occhi, ciao! Con le gambe, con il culo, con il culo, con il culo,